...dietro le tenebre, a noi ci va così, così bene, che non so che cosa... Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro Gatorage, Rosso 94. Allora, volevo fare questo video per parlare un po' con voi del nostro presidente James Pallotta. Voglio parlarne analizzando prima di tutto l'intervista che ha fatto in terra americana riguardo la faccenda Malcolm, riguardo Monchi, Nengolan, eccetera eccetera per poi ampliare più il discorso e dirvi in generale cosa ne penso io del nostro presidente visto che in un video a parte non ne ho mai parlato, detto qualcosa qui e là quando c'è stata qualche cessione, qualche dichiarazione, cose di questo genere ma non vi ho mai detto in un video a parte qual è la mia opinione a riguardo anzi vi chiedo fin da subito di scrivermi qua sotto nei commenti dopo ovviamente aver lasciato un mi piace cosa ne pensate voi di Pallotta, sia che siate tifosi della Roma che invece tifosi di altre squadre. Allora, voglio partire prima di tutto con le parole che ha detto Pallotta riguardo la faccenda Malcolm non vi preoccupate, non sarà un video solo su questo però voglio analizzarle con voi perché su alcune parti mi è venuto veramente da andare in America e stringergli la mano perché ha detto esattamente tutto quello che il 99% dei tifosi romanisti ha pensato dopo questa vicenda. Non c'è dubbio che avevamo un accordo con Malcolm poi il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica e immorale non cose contro legge, poco etica e immorale sapevano che era fatta non ho nessun problema a contendermi un calciatore con Inter, Bayern o chiunque per far capire che non è il problema che ce l'ha preso il Barcellona ma come si è inserito nella trattativa tutti facciamo lo stesso percorso per provare ad arrivare ad un giocatore è così che funziona qualcuno potrebbe dire non era un accordo firmato è una stupidaggine tutti noi sappiamo come funziona il ragazzo arriva per le visite e poi l'affare è concluso per ripetere ancora una volta il fatto che se tu costringi o comunque se tu fai preparare a una squadra le visite mediche per un giocatore vuol dire che l'affare è per forza concluso se no non gliele fai preparare semplicemente le altre squadre sanno che non si interviene come ha fatto il Barcellona il Bordeaux non avrebbe mai dovuto comportarsi così il loro operato è stato ridicolo tra l'altro ad un certo punto ha detto che uno degli agenti di Malcom probabilmente è un deficiente ma vi giuro robe fantastiche veramente fantastiche qualcuno potrà dire è provinciale, è vergognoso io quando ho letto queste frasi l'ho adorato all'inverosimile semplice mia opinione personale il Bordeaux è arrivato a dirci non c'è nessuna firma ufficiale ma sono stati loro a chiederci di pubblicare un tweet che annunciasse l'accordo con noi e non siamo noi ad averle costretti ma viceversa ieri il Barcellona si è scusato per il proprio comportamento non accetto affatto le loro scuse l'unico modo per farmeli accettare sarebbe rimandarci il giocatore ma questo non accadrà ovviamente o magari come segno di buona volontà il minimo che potrebbe dare è mandarci Messi veramente io quando ho letto queste frasi mi ha fatto morire da ridere perché ha usato esattamente il tono e le parole che tutti noi avremmo voluto usare parlando di questo argomento poi adesso non mi sono segnato le vere e proprie parole che ha detto però ha analizzato l'operato di Monci dicendo di essere contento di avere uno dei migliori di S se non il migliore a livello europeo è contento dell'operato della sua squadra è contento dei giocatori che sono stati acquistati ha spiegato che l'aspetto di Nangolana e la sua cessione è avvenuta per motivi non solo calcistici ma anche professionali cosa che tutti noi avevamo ben intuito in generale ha fatto un'intervista a tutto tondo legata al nostro ambiente allora io vorrei chiedere prima di tutto ai tifosi che criticano costantemente la nostra società ma voi prima di pallotta ricordavate una Roma che vinceva trofei ogni cinque anni ogni due anni ogni anno vinceva un trofeo voglio partire proprio da prima di tutto da questo presupposto indipendentemente da se vi sta simpatico pallotto o meno molti criticano la società e criticano pallotta perché non ha portato la Roma a vincere nessun trofeo ma se non ricordo male gli stessi sensi ci hanno messo 7-8 anni per farci vincere qualcosa una Coppa Italia e non possiamo prima di tutto non possiamo accusare pallotta di 10 anni che non vinciamo perché 3 di questi erano con la gestione sensi quindi già qua bisogna fare una piccola distinzione ma la Roma come dimostrano come dimostra il palmares palmares come cazzo dice non ha mai vinto tanti trofei non ha mai vinto ha sempre alternato periodi bui periodi migliori periodi in cui era forte periodi in cui era meno forte molta gente non si ricorda che la Roma in alcuni anni nei primi anni 90 era chiamata Rometta era chiamata Rometta perché era una squadra che all'inizio della stagione poteva ambire solo ed esclusivamente alla salvezza tranquilla e se arrivava all'ultimo posto di Coppa UEFA bisognava fare i festori se ci arriviamo adesso è un disastro se ci arriviamo in quel periodo bisognava fare le feste già solo per dire questo la Roma non ha una percentuale di migliori annate positive e cioè la percentuale non dico che ha la pari ma siamo lì cioè la Roma è stata per pochi anni tra le big del campionato italiano e la Roma per quelli che non se ne sono accorti negli ultimi sette anni nonostante non abbiamo vinto niente non siamo mai scesi facciamo gli ultimi cinque non siamo mai scesi sotto il terzo posto dopo le prime due annate di rodaggio che ci stavano tranquillamente e lo aveva detto anche lui stesso siamo riusciti a migliorarci costantemente e la rosa e non mi potete dire di no è almeno tre volte superiore rispetto alla prima che abbiamo avuto con la cordata americana quindi sotto questo punto di vista non si può dire nulla Pallotta può stare antipatico? assolutamente io con questo non voglio dire che Pallotta è il miglior presidente del mondo e quello con più soldi eccetera eccetera perché uno non è quello con più soldi e sicuramente ci sta che qualcuno non sia simpatico alla fine nessuno sta simpatico a tutti questo lo metto fin da subito in chiaro però pensare che Pallotta non stia lavorando per il bene della Roma per me è una cazzata colossale io da queste parole capisco che Pallotta ci tiene veramente alla sua squadra e al gruppo che ha creato ci tiene veramente perché uno se non ci tenesse non farebbe non manderebbe avanti la questione stadio perché è una questione che ti toglie tanti soldi ed è comunque ti dà comunque fa sì perché visto basta che ogni minima cosa che succede e si crea uno stop chi lo fa fate fa una cosa del genere eppure no lui vuole comunque portare avanti questa cosa perché sa che porterebbe un guadagno enorme non per lui ma per tutta la città di Roma mettetevelo in chiaro fin da subito Pallotta non vuole il male della Roma e nonostante alcune dichiarazioni che ad alcuni non sono piaciute per me rimane un ottimo presidente che ci tiene alla sua squadra che poi a dire la verità io di dichiarazioni veramente inconsulse da parte sua non le ho viste anzi in alcuni casi ha fatto dichiarazioni anche troppo aperte per un gruppo chiuso per un pubblico chiuso pubblico se così subito pubblico chiuso come quello giallo rosso frasi come farò fallire tutte le radio romane perché secondo voi non è giusto una cosa del genere frasi come voglio vedere un po' i conti mi pare strano che il Milan riesca a spendere così tanti soldi non era vero quello che aveva detto tutti lo avevano preso per il culo lo stesso Mirabelli che adesso starà a fare i castelli di sabbia a Mirabelli che era lo stesso fassone che adesso starà facendo i castelli di sabbia al mare lo aveva criticato non aveva ragione in questo caso le parole su Malcolm non ha ragione con questo non voglio dire che è perfetto ci mancherebbe nessuno è perfetto ma per me sia lui che tutta la dirigenza si prendono costantemente troppe critiche per il loro operato io vi vorrei mandare indietro di otto anni fa invece vorrei mandare indietro alla stagione in cui osannavamo Adriano adesso qualsiasi giocatore lo prendiamo non ci fa contenti perché abbiamo venduto quello abbiamo venduto quell'altro cifre come 70 milioni di guadagno con un giocatore ma quando è successo ma la pena ne prendevamo 18 per Vucinic per dire ma era tanto era io vi vorrei ricordare il mercato che abbiamo fatto nella stagione 2009-2010 lasciando stare che poi Rianieri stava facendo mezzo miracolo ma vi dico che noi per quelli che non si ricordano avevamo preso quattro giocatori o tre perché uno era il ritorno di Cerchi dal prestito guberti svincolato dal Bari zamblera che è diventato l'emblema di quelle annate disastrosi di mercato e l'ultimo giocatore che comunque io ho adorato non lui quello che vi dirò adesso nicolas burdisso in prestito dall'inter perché non sapevano a chi cazzo darlo questo era il nostro mercato nove anni fa e voi mi volete venire a dire che pallotto non lavora per il bene della Roma non mette liquidità per il bene della Roma e questo non capisco cioè noi ci lamentiamo anche quando non c'è da lamentarci io capisco se tu ti lamenti se succede qualcosa che non va ci mancherebbe ma noi siamo costantemente abituati alla lamentela facile a qualsiasi cosa succede dobbiamo aprirci un putiferio dopo non ci lamentiamo se lui decide di andarsene via e di lasciarci sull'astrico preferite le società cinesi come quella del Milan preferite gente che se ne frega della propria della propria squadra e che dice stronzate come dell'Aurentis io questo vorrei dire adesso non mi ricominciamo è dell'Aurentis questo qua voi preferite uno come pallotta o uno come dell'Aurentis mi dico adesso ai tifosi da Roma e anche quelli del Napoli poi vedremo un po' come sarà la percentuale io considero pallotta un ottimo comunicatore una persona che quando dice certe cose è perché sa di avere ragione e come ne ho parlato anche con un mio amico su Whatsapp se lui dovesse andare se lui dice queste cose è perché sa che se dovessero andare a vie legali anche per questa questione Malcolm ha la ragione dalla sua parte perché se no non gli verrebbe mai in mente di dirle almeno secondo la mia opinione quindi ricapitolando il discorso per me pallotta sta facendo un ottimo lavoro sotto ogni punto di vista la Roma sta diventando a livello di marketing e anche a livello di Rosa una delle squadre più importanti a livello europeo cosa che negli ultimi anni di gestione Sensi non tanto per colpa loro perché ormai non avevano più in soldo però in generale negli ultimi anni di Sensi non eravamo minimamente e anche nei primi anni 90 perché la gente si ricorda soltanto l'82 l'83 ma quelle sono state annate isolate non è che la Roma ha fatto ogni anno una finale di Coppa dei Campioni e è andata sempre vicino agli scudetti quelle sono state annate ottime fantastiche ma sono isolate bisogna anche pensare che negli altri anni abbiamo fatto schifo invece no noi guardiamo questi 7 anni non abbiamo vinto niente quindi di conseguenza il nostro percorso è inferiore rispetto ad un Milan che negli ultimi 10 anni ha vinto una Supercoppa ai rigori contro la Juve questo è quello che vuoi farvi capire ok che anche a me dà fastidio che non vinciamo niente da tantissimo tempo però cerchiamo di criticare quando c'è bisogno di criticare perché cercare sempre di trovare la via della polemica anche quando non ce n'è bisogno per me è una colossale stronzata io lo ripeto per l'ultima volta per me Pallotta è un signor imprenditore non sarà la persona che sta più vicina alla società di tutti quanti come per esempio gli agnelli con la Juve però è un imprenditore serio e capace secondo il mio punto di vista poi se voi la pensate diversamente pensate che è un maiale o cose di questo genere fate pure dopo se lui dovesse andarsene via non vi lamentate se la situazione della Roma comincerà a peggiorare perché per me in questo momento sotto molti punti di vista siamo una delle migliori squadre a livello italiano ed anche europeo non la migliore grazie al cazzo non saremo la migliore probabilmente mai però stiamo lavorando per rimanere ad alti livelli e chi pensa il contrario per me non vede bene con i propri occhi semplice mia opinione personale detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di James Pallotta delle sue parole su Malcom e in generale del suo operato da quando è diventato presidente della Roma questo era un video generale che volevo fare per commentare con voi le sue parole e per dirvi la mia opinione in merito ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre e comunque forza a Roma ciao ragazzi ciao a tutti Grazie per la visione!